Come noi, siete i milioni ad occuparvi del vostro giardino, ma il diserbo resta un compito fastidioso e piuttosto spiacevole. Non sopportate più il mal di schiena, non sopportate più di farvi pungere mentre trattate un cespuglio, non volete più restare impigliati ai rosai e volete semplificare i vostri trattamenti. Allora basta con tutti questi fastidi. Tecnomah vi propone la soluzione per tutti questi problemi. Wonderweed 300 La canna da diserbo Wonderweed 300 di Tecnomah è la soluzione facile e pratica per eliminare le infestanti. Svitate il pomello. Dosate il diserbante che avete scelto. Aggiungete dell'acqua fino al punto indicato, 300 ml. Con Wonderweed 300 imparate a diserbare rispettando l'ambiente. Richiudete il pomello. Agitate. Eccovi pronti ad eliminare fino a 500 infestanti. Nel vostro viale di ingresso il diserbo non è più un problema. Ogni infestante viene trattata con precisione. Se desiderate trattare sotto un cespuglio di rose, potete accederci facilmente grazie a Wonderweed 300 di Tecnomah. Potrete provvedere alla cura dei bordi della vostra piscina senza rischio per l'acqua. Non esitate più a fare trattamenti nel vostro orto. Grazie a Wonderweed 300 proteggerete le verdure che potrete poi gustare con tranquillità. Wonderweed 300 diventa un elemento indispensabile per diserbare il vostro bel prato inglese. Nel vostro cortile potete selezionare solo l'infestante. Dopo l'utilizzo, bloccate Wonderweed 300 stringendo la ghiera per una maggior sicurezza. Riponete facilmente Wonderweed 300 grazie al suo gancio integrato. Tecnomah vi augura un buon riposo. Approfittate del vostro giardino. Riponete facilmenteọiijo địa. Riponete facilmente il vostro regio anche con heroic dell'inferno dell'interno dell'inferno. warning.